È stato arrestato dai carabinieri per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il 32enne tunisino che rimase gravemente ferito il 12 febbraio scorso in un'aggressione a colpi di mazze avvenuta in piazza dei Cionpi, in pieno centro storico a Firenze. Per l'episodio un sedicenne libico fu arrestato per tentato omicidio e altre tre persone denunciate con la stessa accusa. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, il 32enne dimesso dall'ospedale nei giorni scorsi aveva iniziato a spacciare usando come base l'abitazione della propria compagna dove era ospitato. I militari stavano monitorando da tempo i suoi movimenti e sono riusciti a sorprenderlo proprio mentre cedeva una dose di eroina a un giovane italiano. Nascoste nei vestiti e a casa il 32enne aveva diverse dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 28 grammi. Dopo il processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell'obbligo di firma.